ciao amici italia top games buongiorno mercoledì primo novembre un mercoledì festivo spero che ve lo stiate godendo al meglio oggi vi avevo promesso in ritardo di un giorno l'italia top games risponde questa settimana l'italia top games risponde viene rinviato oramai direttamente alla prossima settimana martedì prossimo salvo altre breaking news ma la settimana prossima non lo faccio se avete altre domande come qualcuno ha fatto ieri continuate la lista che martedì ripeto salvo ultra breaking news ma la settimana prossima l'italia top games risponde torna al cento per cento perché toni mi ha segnalato una cosa che ho già avevo notato l'altro giorno quando ho giocato una partita nel dream team online e adesso la andiamo a vedere in dettaglio grazie toni comunque per avermelo in qualche modo ricordato perché cosa succede sostanzialmente sono tornate le squadre di serie b non nelle partite offline adesso andiamo a vedere ma non credo proprio che ci siano ma come divise per il dream team la cosa interessante perché per tante ragioni intanto va bene andiamo a a prendere la campagna halloween finisce finisce stanotte ragazzi se ancora non avete preso le 50 monete vi manca una sola oggi lo dovete prendere perché le 25 alle 5 del mattino finisce quindi se non l'avete ancora presa le monete cercate di prenderle qui cosa va bella visi sicurezza del solito i bonus di accesso quindi niente di nuovo sotto il sole allora andiamo a vedere intanto se stanno anche nel nelle partite di prova ma non credo proprio però andiamo a controllare sempre per sicurezza no infatti c'è solo il pisa process andiamo nello schema del dream team eccolo qui e andiamo a cambiare la squadra l'opzione squadra base squadra base ci dovrebbero essere delle novità allora intanto volevo andare a vedere se nelle altre ecco c'è questo social jb che è un po un una sorta di mistero perché non è neppure una squadra di serie b da quello che mi ha scritto qualcuno ma un campionato dilettantesco e però ecco il fatto è che ci sono nuove squadre della serie b c'è il sud tirol l'eco il como il cittadella il feira al pisalò il venezia fc l'os cremonese il parma la reggiana il modena la sandoria lo spezia il pisa l'ascoli la ternana l'SSC bar il cosenza il catanzaro il palermo la reggiana non è ufficiale mentre invece palermo logo ufficiale cadanzaro logo ufficiale cosenza calcio logo ufficiale bari ternana ascoli pisa spezia sandoria e questa ad esempio la sandoria una novità perché lo ricordiamo l'anno scorso quando la sandoria era in serie a non avevamo non avevamo il logo ufficiale non avevamo nulla perché era una delle squadre in esclusiva a livello di diritti e tutto quanto per quanto riguarda gli esports ora probabilmente c'è stato un aggiornamento dovuto al fatto che la sandoria non sta più in serie a e quindi quell'accordo di esclusività legato scusate il gioco di parole legata all'accordo tra gli esports e la lega di serie a non c'è più e quindi la sandoria può comparire grazie invece l'accordo di serie b che ha che ha con ami di cui non si parla più da tempo può tornare ad avere tutto ufficiale e lo stessi lo stesso dicasi per la cremonese che ha tutto ufficiale logo eccetera eccetera poi il resto delle squadre mi sembra che era che era come prima però la novità rappresentata dalla cremonese e dalla sandoria e anche dallo spezia calcio che ha il logo ufficiale cioè le tre squadre di serie a che l'anno scorso assolutamente non erano presenti in modo ufficiali adesso sono presenti con logo e nome ufficiale questo cosa ci dice a livello di gioco vabbè saranno contenti tifosi cremonese di della sandoria e dello spezia che possono avere tutto ufficiale le altre squadre se non sbaglio c'erano già ma non ne sono sicuro perché non l'avevo mai provato però mi sembra di ricordarle che ci fossero anche a disposizione il drentin forse però non ne sono certo ecco l'unica squadra che non è presente la reggiana perché poi dopo e il lecco mi pare anche il lecco non mi pare sia ufficiale le altre tutte quante però ora me lo potete dire meglio voi sicuramente però la cremonese la sandoria e lo spezia non potevano essere ufficiale all'interno di football perché appunto avevano l'accordo con i sports quindi sono tornate c'è stato questo aggiornamento che forse è avvenuto giovedì scorso ma di cui non mi ero accorto sono tornate qui solo e soltanto qui perché le due se le due considerazioni la prima è che è incredibile che debba essere la community di italia to games a scoprire queste cose e con amia anche queste minime cose che comunque porta all'interno del gioco io fossi fossi io è un tweet lo direi changelogli cambio oggi ci sono le maglie dell'assendore della cremonese del e dello spezia io lo farei poi ditemi voi se sbaglio perché ci sono appassionati che prediligono queste cose seconda cosa non so dirvi se questo porterà al ritorno delle squadre anche in nelle competizioni offline perché questo è un discorso differente cioè nessuno impedisce a konami penso di inserire le squadre anche se non siano ufficiali fino fino agli altri anni a sempre le ha sempre proposto le squadre anche non ufficiali qui va beh qui in questo momento ci sono solo squadre ufficiali se siano cambiate le cose non lo so però quelle le squadre di serie b ce le ha ce le ha i diritti quindi le potrebbe tranquillamente inserire oltre al pisa e quindi niente ragazzi staremo a vedere e staremo a vedere comunque ecco volevo darvi questa notizia ci sono i loghi e i kit ufficiali delle squadre di serie b per il dream team staremo a vedere e anche questo social jb che è stato inserito potrebbe non dire nulla di nuovo per il gioco ma comunque ecco qualche cosina si sta muovendo quello che succederà poi a dicembre non lo sa nessuno al momento meglio non fare ipotesi su my league su master league su editor su cross play sul supporto mobile su tutto perché in questo momento non sappiamo davvero nulla però ecco anche se non viene messo in in enfasi diciamo c'è chi anche su una pagliuzza fa megacomunicati stampa konami inserisce delle cose e non le comunica incredibilmente io ricordo sempre che l'edizione messi booster visto che me lo richiede qualcuno ancora è disponibile nello store di playstation di xbox su pc e su mobile è disponibile all'interno del gioco ragazzi per il momento è tutto video breve ma volevo segnalarvi questa questa piccola novità all'interno del gioco sempre per il dream team sono disponibili tutte le scuole quasi tutte le squadre di serie b in maniera ufficiale e e questo è quanto io vi do appuntamento a questa sera ragazzi per l'evento spagnolo c'è una bella partita per prendere le 50 monete vi auguro ancora un buon mercoledì festivo e a domani mattina ovviamente per le novità del giovedì che speriamo siano interessanti c'è la certezza che arriverà una campagna legata al pallone d'oro di messi non so dirvi però se arriverà questo giovedì il prossimo lunedì o il giovedì ancora dopo perché con konami non si può mai avere certezze speriamo che arrivi già domani domani lo scopriremo buona giornata ragazzi ciao